Stamattina ho deciso di scendere al Duomo col mezzo pubblico, visto che l'amministrazione ci invita tanto a lasciare a casa le auto, i motorini, e ho deciso di prendere il mezzo pubblico. Sono qui alla fermata del Corsitalia da una mezz'oretta e incontro tanta gente che è qui e che ormai proprio si è abituata a questi ritardi, a quest'andazzo generale dell'autobus. La signora voleva dire qualcosa in merito. Signora, come si trova lei col mezzo pubblico? Malissimo, non male, malissimo. Ora da quant'è che aspetta qua? Un'ora, prima dopo i cinque, i cinque non veneva, vengono qua e ancora non escono. Invece lei signora è da poco che sta qua? No, no, da un'ora. Anche lei da un'ora? Sì, sì, è da un'ora. Ma l'amministrazione, il sindaco Bianco vuole tagliare ora 25 linee e dice che in centro bisogna scendere col mezzo pubblico perché funziona. Ma ha ragione, perché il sindaco Bianco con l'autobus non ci va, perciò ha ragione. Se si mette nella firmata, gli aspetta un'ora, anche lui prende la macchina. Ho capito. Scusa, va bene, glielo facciamo sapere al sindaco allora. Sì, sì. Ma magari qualche volta lo prende anche lui, l'autobus si rende conto, no? Sì, che non subito, che è che è il capino a coscecco. Ah, sì, coscecco. Sì, capino a coscecco, perché chi è? No, c'è tante auto, tante auto. Perché chi è? Va bene, grazie. Noi aspettiamo, aspettiamo anche per sapere qualcosa, purtroppo è fulminata. No, no, è che è fulminata. Quali sono le vini e dove ti portano. Che Dio ce la mandi buona.